Che la dieta mediterranea fosse un toccasana per il benessere fisico e per la prevenzione di numerose malattie era cosa nota, tanto che nel 2010 è stata dichiarata patrimonio culturale immateriale dall'UNESCO. È gustosa nella sua varietà di cibi da combinare e nutriente ed è associata ad una maggiore longevità. Dato quest'ultimo confermato anche da uno studio realizzato nell'ambito del progetto Umberto, condotto dal Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell'Istituto Neuromed di Pozzilli e dalla Fondazione Umberto Veronesi. La ricerca che ha analizzato i dati di 800 italiani adulti, uomini e donne, ha mostrato che le persone che avevano ricevuto una diagnosi per qualsiasi tipo di tumore e che si erano approcciati alla dieta mediterranea, vivono effettivamente più a lungo rispetto a chi non mangia seguendo questo stile alimentare. Considerando che il numero di pazienti che sopravvive a lungo al cancro è destinato ad aumentare nel tempo, grazie a terapie sempre più mirate ed efficaci, è cruciale capire se e quanto lo stile di vita a tavola può prolungare la loro sopravvivenza. Ecco perché i ricercatori hanno voluto indagare il ruolo della dieta mediterranea. I risultati della ricerca indicano che le persone che avevano avuto precedentemente un tumore e che nell'anno precedente il loro ingresso, nello studio Molisani, avevano seguito uno stile alimentare mediterraneo, avevano negli anni successivi un rischio di mortalità più basso del 32% rispetto a chi invece non aveva seguito la dieta mediterranea. Grazie. Grazie. Grazie.